La felicità è qui, occhi verso il cielo e piedi nell'acqua. E per trasformare il sogno in realtà, ho deciso di muovermi come voglio io. Viazzerare la fretta e cancellare le distanze. Rilassarmi, divertirmi, prendermi i miei spazi e decidere che la vacanza può iniziare da subito. Divertimento o relax è una scelta che voglio poter fare in tutta comodità. Con Grimaldi Lines la mia vacanza si muove al ritmo dei miei desideri. Raggiungo Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Con navi ancora più comode, spaziose ed ecologiche. E ora porto Torres anche da Savona. Vai su GrimaldiLines.com Grimaldi Lines, libera la tua voglia di viaggiare. Grazie.